Il saluto di nuovo a tutti gli ascoltatori, in particolare ai numerosi presenti, vi incoraggio in questi tempi difficili a essere tenati, forti, resistenti, perseveranti nella fede. Allora noi, io adesso sto seguendo in queste catechesi il mio ultimo libro su Meggiugorie che è intitolato Il segreto di Meggiugorie per affrontare gli ultimi tempi. Allora io scrivo ogni anno un libro su Meggiugorie. Per quale motivo? Perché uno dice ma cosa c'è ancora da dire su Meggiugorie? Chi dice così non ha capito niente. A parte il fatto che la Madonna ha una profondità, una luminosità che ci acceca perfino e quindi per capire quello che ha detto facciamo molta fatica. Ma soprattutto perché Meggiugorie non è una dottrina. E' la Madonna che è qui presente, che sta realizzando un piano di salvezza per la nostra generazione nel momento in cui Satana è sciolto dalle catene. E lo fa con noi. E per mezzo di noi. E ci chiede di aiutarla. Quindi noi dobbiamo cercare man mano che il tempo passa, capire cosa sta realizzando la Madonna e cosa noi dobbiamo fare per realizzare il suo piano. e poi vedere le cose come le vede lei. Cioè io, sapete che ogni mattina leggo un sacco di giornali, mettiamone una decina, ma durante il giorno, poi appena, perché mi piace diciamo, no? Ma se io dovevo dirvi che se io capisco, io mica capisco il mondo come va dai giornali. Figuriamoci. Dice, mentre la Madonna piange, quelli brindano prosecco. Capito? Quindi, cioè i giornali dicono, ah, che conquiste, viva l'amore, viva la libertà, eccetera, eccetera. Brindano prosecco, la Madonna piange. Quindi, per dire come vanno le cose. Se vogliono sapere come stanno le cose qui sulla Terra, dobbiamo guardarli dall'alto dei cieli. Allora, dall'alto dei cieli, qual è la diagnosi che ci arriva? È questa. Cari figli, amate poco, pregate ancora di meno. Siete persi e non sapete qual è il vostro scopo. Questa è la diagnosi. Allora, noi dobbiamo, veramente, seguire, cioè dobbiamo essere, cogliere questa immensa grazia della presenza di Maria in mezzo a noi e cercare di capire perché è qui da così tanto tempo. Pensate, quando io seguivo dall'inizio, da principio Meggiugorie, allora, tutti dicevano, tutti e sei ragazzi dicevano che le apparizioni quotidiane sarebbero terminate con la rivelazione del decimo segreto a ognuno dei ragazzi. Ora, sono passati dal 1998, quindi un bel po' di anni, che Jacopo ha ricevuto il decimo segreto, la Ivanka nel 1985, la Miriana nel 1982. Attenti. La Miriana ha ricevuto i dieci segreti nel 1982, capito? E i segreti di Meggiugorie sono la cosa più importante di Meggiugorie. Erano già nel piano di Maria dall'inizio, tant'è vero che con lei che li deve rivelare, la Miriana li aveva tutti già rivelati dal 1982. Ma dal 1998, siamo nel 2015 adesso, nel passato di tempo, 17 anni, e vanno avanti. Quei tre, che hanno nove segreti, vanno avanti. Vanno avanti, ma non pensate che al decimo segreto c'essero le apparizioni quotidiane. Perché nel frattempo la Madonna ha cambiato i piani. Ha cambiato i piani, cioè ha chiesto a suo figlio di poter stare qui fino, prima l'ha chiesto, le donne la sanno lunga, quindi. Prima l'ha chiesto pian piano, prima gli ha chiesto di poter stare qui fino al terzo segreto, che è il segno sulla montagna. Bellissimo, indistruttibile, visibile, che viene dal Signore. Che viene dal Signore. Però, diciamo, la vera grazia è che successivamente ha ottenuto dal Signore di stare qui fino al compimento del decimo segreto. Guardate che da 4 a 10 sono 7, le 7 coppie dell'Apocalisse. I 7 fragelli dell'Apocalisse sono quelli che la Madonna ha ottenuto di stare qui fino al decimo segreto. Il che vuol dire che noi affrontiamo la parte più difficile del momento in cui viviamo con la presenza della Madonna, con apparizioni quotidiane, perché uno di tre veggenti che ha ancora l'apparizioni quotidiane, che sono Maria, Visca e Ivar, uno di questi tre avrà l'apparizioni quotidiane fino al compimento del decimo segreto. E chi è? Non si sa. Questa cosa la Madonna ha letta solo a Visca, la quale l'ha letta in diretta a Radio Maria e ribadita più volte. e gli altri dicono, beh, l'ha letta a lei, cosa vogliamo dire? Queste che gli sembrano cose, no, ma guardate che la Madonna sia presente o non sia presente. Non è la medesima cosa. Lo so che la Madonna spiritualmente è presente, ma l'apparizione è una grazia diversa dalla presenza spirituale di Maria. È una grazia immensa, perché la presenza di Maria è segno di protezione, di grazia, di luce, di vittoria. Tant'è vero che Satana sa che è sconfitto, sa che non ha scampo. Cioè la Madonna è qui, incoronata di 12 stelle, cioè è qui come regina, è qui come collega che schiaccerà la testa alla serpente, e qui come vincitrice, ma questa vittoria la potete solo attraverso di noi. È per quello che da dieci anni sta formando quelli che lei chiama i miei apostoli. I apostoli di Maria, e chi sono? Siamo noi. Poveretti, di fatti, di fatti, cosa ha detto la Madonna Miriana nel messaggio di due mesi fa? Ha detto che il male non vincerà, perché questo è lo scatenamento del male. Noi abbiamo il tempo dello scatenamento del male. Non vincerà perché ci siete qui voi, miei apostoli, voi che soffrite, voi che pregate, voi che offrite, voi che testimoniate, perché ci siete qui voi, il male non vincerà. Quindi dobbiamo farci coinvolgere, farci coinvolgere. Dobbiamo seguire, perché se no, se no, non possiamo fare da spettatori. Cioè la Madonna ci sta, è come la parabola della vigna, che il padrone è venuto a chiamare ore diverse, perché gli operai padrono lavorano nella vigna. Perciò ci ha ingaggiati, per quello che la Madonna dice, scusate, dice grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Cosa vuol dire? Che ci ha chiamati. E fin dall'inizio ci ha detto grazie. Guardate che qui bisogna proprio rifletterci sopra queste cose, perché se no la Madonna parla, ma il più lo perdiamo. Quando la Madonna fece quella professia a Fatima, il prossimo anno è il centenario di Fatima, apro una piccola parentesi, Fatima per essere compresa ha bisogno di Međugorje. Per camminare ci vogliono due gambe. C'è un piano di Maria da Fatima a Međugorje. Non c'è niente da fare. Chi si ferma a Fatima e non guarda a Međugorje non capisce niente. Non capisce niente. Adesso è uscito un ultimo libro, un libro recente, non dico neanche l'autore, se non fa polemiche. Intanto l'ultima profezia. Colò lì improvvisamente ha cancellato Međugorje dalla sua vita, dal suo libro. Non c'è neanche una parola. Scomparso. Le apparizioni si fermano a Chibeco, secondo lui. Chi fa questi ragionamenti? Non ha capito un tubo. Non ha capito niente. Cioè la Madonna è viva ora a Međugorje. E la Madonna è la chiesa. Di cosa sta parlando? Cioè di cosa sta trattando? Sta trattando di questo problema. Come uno dei primi maggiori che ha di fronte a sé. E lo accompagna. Cioè non mi vengono a dire che la chiesa... Cioè questi ragionamenti tipici di certi preti poi che sono pretesti. Non è che voglio fare polemiche ma è anche ora di cerchiare le cose. Finché la chiesa non ha approvato, io non credo. Ma scusate, ma guardate io, uno di questo genere. Io lo mando ottobre, cioè ripetente, bocciato. Perché la chiesa, per approvare un'apparizione, controlla le conversioni. Se non ci sono conversioni, non dice niente alla chiesa. Non approva nessuna apparizione. La prima vera dichiarazione della chiesa su un'apparizione è quella della Salet. Dove è stato formalmente riconosciuto l'orizio soprannaturale di un'apparizione. E perché? Perché la gente... Non so chi è stato la Salet lì, siamo in campagna, proprio contadini, eccetera. A migliaia andavano sulla montagna e c'erano tutti i preti del vicinato dalla regione che confessavano per giorni e giorni. Questa è la ragione per cui la chiesa ha approvato la Salet. Cioè la chiesa si muove, certo, siccome Međugorje è il confessionale del mondo, la chiesa ha fatto una commissione addirittura mondiale per valutare questo fenomeno. Quindi non venite a dire quando la chiesa si è pronunciata, io credo, no figliolo? Convertiti, perché se ti converti la chiesa approva, ma se nessuno si converte, la chiesa neanche prende in considerazione, neanche prende in considerazione. Allora, questo lo dico perché c'è un rischio, anche se comunque la Madonna ci ha provveduto a superarlo. Il rischio c'è che questa grande battaglia che è in atto, è in atto una grande battaglia. Questa la Madonna l'ha detto già nel mese di agosto del 1981, ha detto in atto una grande battaglia fra mio figlio e Satana. Alla fine vincerà mio figlio, ma anche Satana avrà la sua parte e se li porti via. Ma noi dobbiamo far di tutto perché non abbia la sua parte. Però se guardiamo in giro, guardiamo cosa ha detto la Madonna. Oggi la maggior parte di chi muore va in purgatorio. Un numero ugualmente grande va all'inferno, ha detto. Io quando sento queste cose, mi sento male. Mi sento male. Mica l'ha detto, sono i suoi figli. L'ha detto con una spada che le trapassa l'anima. Allora noi dobbiamo, cioè noi dobbiamo farci coinvolgere da questa mobilizzazione di Maria che è qui da 35 anni ormai per salvare il mondo. Qui per salvare il mondo. Perché? Perché qual è lo specifico? Questa guardate, tenete ben presente una cosa. Questa è l'ultima battaglia della Madonna. E' l'ultima. Perché lei ha detto, sono venuto per l'ultima volta a chiamare l'umanità alla conversione. Poi non apparirò più. Non apparirò più nel senso, non di un'apparizione privata a una persona. Nel senso di un impegno così globale. Perché questo è un momento storico particolare. Cioè il momento di Satana sciolto dalle catene, Gesù ha mandato sua madre per sconfiggerlo. Quindi è l'ultima battaglia della Madonna questa. L'ultima. Ed è, figurate se viene per che cosa? Per essere sconfitta. Viene per la vittoria. La vittoria che fa attraverso di noi. Quindi è l'ultima battaglia ed è la sua più grande vittoria. Perché poi, nello scatenamento satanico alla fine del mondo, di cui parla il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 675. Nello scatenamento satanico alla fine del mondo, quando la Chiesa farà la via Crucis e sembrerà quasi morta, ma poi risorgerà. In quell'ultima battaglia non c'è la Madonna. In quell'ultima battaglia avviene Cristo sulle nubi del cielo come giudice del mondo. Questa dunque è l'ultima battaglia che fa la Madonna. Ed è qui, ed è qui e ho ottenuto di star qui così tanto tempo per salvare il maggior numero di anime possibile. Comunque, quello che mi colpisce è che negli ultimi messaggi, la Madonna vedendo, ovviamente lei ci guarda, ci vede, vede ciò che pensiamo, ciò che si muove nei nostri cuori. Quindi la Madonna vede che siamo quasi intimoriti dall'onda tremenda del male che si è abbattuto sul mondo. L'incredulità, l'odio verso Cristo, l'attacco alla Chiesa, la potenza della seduzione. Quasi si ha paura, ma noi che nella nostra Italia, che è uno dei principi più cattolici del mondo, si ha paura di essere cristiani, si ha paura di dirsi cristiani, si ha paura di professarsi cristiani. E se lo fai in certe sedi, che poi sono le sedi pubbliche, ti saltano la vostra come cani arrabbiati, questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Allora, noi siamo in quale momento siamo? Perché bisogna capire in che momento siamo. Noi siamo nel momento in cui gli uomini stanno costruendo un mondo nuovo senza Dio. Perché è nuovo? Perché mai è successo, da quando c'è l'umanità, che gli uomini abbiano programmato lo sfratto da Dio da questo mondo. Questo è quanto oggi si sta facendo. Un mondo nuovo senza Dio, dove l'uomo indica se stesso come Dio. Capito? E come no? Il Parlamento cosa ha fatto? Ha demolito la creazione dell'uomo, ha demolito la creazione in cui il cumine è l'uomo maschio e femmina. A immagini Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È il cumine della creazione. Ma ormai tutti i parlamenti dell'Occidente sono accodati a questa distruzione dell'opera divina. Che è una cosa poi tra l'altro così di mal gusto, così, non so come dire, contro il buonsenso. Allora, questo sta facendo l'uomo. Vuol mettere se stesso al posto di Dio. Vuol fare il mondo nuovo senza Dio. Questo è il mondo nel quale viviamo, nel quale noi siamo. Dove noi rischiamo di essere imbevuti da questa mentalità, rischiamo di perdere la fede. E come no? Rischiamo di perderci. Rischiamo di perdere anche il cuore della fede che è Gesù Cristo. Allora, questo mondo nuovo senza Dio che stanno costruendo, no? E quindi brindano prosecco a tutte le volte che riescono a ottenere qualcosa, no? Non so cosa faranno la prossima volta. Staremo a vedere. Diceva un giornale, in questi giorni, che c'è ancora una soglia, ma che verrà presto abbattuta. Quella che separa l'uomo dall'animale. Lo diciamo in generale è colto come il foglio, ma quella è l'ultima barriera. Dopodiché, capito? L'uomo è un animale come tutti gli altri. Questo è il mondo senza Dio, dove l'uomo è lui che è Dio, al posto di Dio. La Madonna osserva. E così Satana mette se stesso al posto di Dio. Cioè, Satana sta mettendo se stesso al posto di Dio. Lui, padrone del mondo, e solamente i principi lo faranno presidente. Vediamo. Dunque, questo è il mondo nel quale viviamo. Per questo mondo non c'è né gioia, né futuro, né salvezza eterna. Guardate che io, quando dico, scrivono, costruiscono un mondo sulla sabbia. Crollerà tutto. Ma voi cosa credete? Che l'Apocalisse è stata scritta da San Giovanni perché non sapeva cosa fare dopo cena? Che uscirà la televisione allora. Guardate cosa dice Giovanni nel capito XVII dell'Apocalisse sulla caduta di Babilonia. E cos'era Babilonia? Nel suo pensiero Babilonia era la Roma pagana di allora. La Roma dove l'imperatore indicava se stesso come Dio. Era l'impero romano in balia dei demoni. Tant'è vero che il cristianesimo, dice Papa, diceva, Papa benedetto perché il suo libro Gesù di Nasio l'ha scritto da Papa, diceva che il motivo per cui la predicazione apostolica ha sfondato dall'impero romano, sapete perché? Perché il cristianesimo è stato vissuto come un grande esorcismo di liberazione dei demoni. Allora, quella Babilonia di cui parla Giovanni è questa Babilonia. Cioè questo mondo d'oggi è la Babilonia dell'Apocalisse. Cioè è un mondo che è, diciamo, a rischio di autodistruzione. Allora, questo mondo crollerà. Cioè per questo mondo non c'è futuro. Non c'è né futuro né salvezza eterna. Crollerà. Uno dice, state attenti perché le profezie che si realizzino, cioè, ormai tutti siamo profeti, facciamo le profezie. Anch'io in questo libro come negli altri ho fatto le mie profezie, però io le profezie le ho fatte. Non le mie profezie. Ho messo in luce le profezie della Madonna. Perché le profezie della Madonna sono le uniche che sono realizzate. Guardate, la Madonna cosa ha detto nel 1917? Ha detto che la Russia avrebbe diffuso in tutto il mondo i suoi errori. nel 1917, a ottobre, scoppiò la rivoluzione comunista che poi pian piano prese il potere, si diffuso in tutto il mondo, portò in mezzo mondo l'ateismo e distrusse la religione. Distrusse soprattutto il cristianesimo nei paesi dell'est europeo e in Russia. Chi l'ha profetizzato? Chi l'ha profetizzato? La Madonna. Giusto? Qua la singola profezia seria? E poi la Madonna ha fatto una profezia condizionata. Ha detto se il mondo non si convertirà avrete una guerra peggiore di quella precedente. Ce l'ha detto nel 1917 quando stava finendo la prima guerra mondiale. Ha detto pure un segno. Un giorno in cui vedete un'alba boreale, una grande luce di notte, quello è il segno che vi do che incomincerà la seconda guerra mondiale perché non vi siete convertiti. E questa alba boreale ci fu nel 1938 perché allora incominciò la seconda guerra mondiale. poi la Madonna ha detto sempre a Fatima collegandolo alla consacrazione del mondo sul cuore immacolato specialmente della Russia sul cuore immacolato ha detto alla fine la Russia si convertirà punto poi e alla fine il mio cuore immacolato trionferà. state attenti si sono realizzate queste profezie e sì la Madonna c'è una memoria buona difatti nell'ottobre il 30 ottobre 1981 la Madonna ha dato un messaggio è scritto figlioli è scritto dato allora dato ottobre 1981 ma chi si ricorda io vi ricordo cosa era il 1981 c'era l'impero sovietico in piena espansione c'era la Russia che puntava i missili sull'Europa tant'è che gli Stati Uniti hanno dovuto intervenire con gli aeromissili cercava la Russia organizzava l'invasione dell'Europa organizzava l'attacco nucleare all'Europa nel 1981 doveva scoprire questo attacco nucleare all'Europa doveva partire nel 1985 vi dico notizie che ci sono sui giornali perfino nel 1985 doveva essere l'anno in cui c'era l'attacco nucleare della Russia sull'Europa perché? perché la Russia aveva troppo bisogno della tecnologia europea e voleva conquistare l'Europa e c'era un attacco nucleare preventivo prima che arrivassero i missili dagli Stati Uniti in Russia ti saluto Maria che il tempo non è bello tutto quel viaggio lì quindi cosa successe? che il 13 maggio 1985 la più grande base russa di missili puntate su Europa nell'armatico è saltata queste sono cose di giornali quindi questo era il 1931 questa era la situazione della Russia e la Madonna cosa dice? il popolo russo sarà il popolo in cui Dio sarà maggiormente maggiormente onorato si è realizzato o non si è realizzato si sta realizzando perché non c'è dubbio che la chiesa ortodossa russa è in grande spolvero è in grande fioritura e ci sono grandi conversioni in Russia questa è questa è la verità non c'è la corruzione che esce da noi non ci sono le leggi che ci sono da noi allora questa è una realtà vedete come la Madonna la Madonna queste cose non è che le prevede le realizza cioè lei con noi soprattutto con gli obiettivi di Međugorje con la preghiera di Dijuno ha fatto accrollare l'impero sovietico chi segue i messaggi del 1991 noi non li capivamo perché nessuno sapeva che la Russia crollava nessuno ne immaginava ma neanche gli Stati Uniti lo sapevano nel 1991 la Madonna ha detto da gennaio ha detto Satana vuol distruggere il pianeta sul quale vi trovate ha chiesto una preghiera di Dijuno fortissimi agosto ha chiesto nove giorni di Dijuno a tutti a pane e acqua perché voglio realizzare ciò che ho iniziato a Fatima e lì fu il momento in cui la Russia crollò perché l'8 dicembre giorno dell'immacolata fu sciolto l'impero sovietico e il 25 dicembre fu mai nata la bandiera rossa dal cremelino quindi lì c'è la firma non si scappa per cui dico questo perché quando io dico quando io dico attenzione che questo mondo che si sta costruendo senza Dio crollerà lo dico perché perché non per perché l'ha detto la Madonna però non è che mi manchino argomenti per crederci perché la Madonna ti ha fatto croire l'impero sovietico in quanto i 4-8 non che fossero le mura di Gerico questa è la verità e chi l'ha fatto croire l'impero sovietico chi? la Madonna l'ha fatto croire lei l'ha fatto nel 1981 e l'ha fatto l'ha fatto l'ha detto e l'ha fatto perché le profezie di Maria sono queste lei realizza ciò che indica cioè le profezie sono un obiettivo che lei realizza con tutti noi adesso lei con i suoi apostoli con tutti noi realizza l'obiettivo di far croire questo mondo senza Dio questo mondo crollerà crollerà in questo secolo crollerà mi sbilancio a dire questa cosa perché la Madonna non poteva dire questa frase nel Natale non so quanto nel 2002 forse ha detto se accoglierete Gesù re della pace questo secolo sarà un secolo di pace e di prosperità quindi questo mondo facciano pure sia pure da fare no? si sbraccino pure questo mondo crollerà non crollerà tutto ciò che fa Satana crolla ma la Madonna ce lo assicura ci dà la forza ci vince l'amore vincerà e poi ci ha detto che la Chiesa è indistruttibile indistruttibile ma l'ha detto in i messaggi di adesso di questi mesi qua che appunto io analiso questi messaggi qui dentro la Chiesa ha detto che è indistruttibile e ha detto l'ha detto due o tre mesi fa guardate se non vede tutto la Madonna ha detto fin dall'inizio cioè per consolarsi ha detto non scoraggiatevi perché dice fin dalle origini ci sono stati quelli che perseguitono la Chiesa e che la tradiscono quelli che la tradiscono sono ancora di più di quelli che la perseguitano però la Chiesa si è sempre diffusa lo stesso quindi come dire se perseguitate pure tradite pure la Chiesa si diffonde lo stesso si diffonde con la nostra fede con la nostra perseveranza con la nostra fedeltà con la nostra testimonianza cioè non è che io sia contento diciamo così che ci siano quelli che tradiscono e quelli che perseguitano però guardate che quelli che tradiscono sono molto peggiori perché guardate che sì i sommi sacerdoti Erode Pilato ma il peggio è stato Giuda il peggio è stato Giuda quindi per dire no che la Madonna vede bene quello che si succede per cui questo mondo che si sta costruendo senza Dio che è il progetto del demonio è il progetto di Satana questo mondo crollerà non ha non ha futuro ma noi cosa dobbiamo fare noi dobbiamo rispondere alla chiamata ma rispondere veramente alla chiamata e in che modo prima di tutto conservando la fede ma io leggevo una statistica fatta dall'Istat fra l'altro qualche giorno fa dove si vabbè si le statistiche sai non è che perché in Italia sì ci sono quelli che perdono la fede ma ci sono tanti noi a Radio Maria sentiamo conversioni direi a migliaia basta che apriamo i microfoni per dirlo è una cosa incredibile quelli che si convertono però una statistica ci dice che oggi in Italia dai 40 ai 60 anni c'è un sacco di gente che perde la fede eccolo qua siete persi e non sapete qual è il vostro scopo una signora io ho spiegato queste cose una signora mi scrive dicendo io sono uno di quelli che si sono persi ma la colpa è della chiesa eh no figlioli scusate la colpa è della chiesa no la colpa è tua perché è perché non l'hai pregato prendete la croce e guardate Gesù e seguitelo figlioli vi invito a ritornare alla preghiera del cuore perché nella preghiera potete trovare la speranza è il senso della vostra esistenza quindi qual è il nostro compito il nostro compito è quello è quello di come si dice diventare apostoli apostoli di Maria farci coinvolgere in questa grande opera perché perché cosa avverrà cosa avviene avverrà sembra che avviene avviene che noi siamo in mezzo a un sacco di gente che non sa perché sta al mondo questa è la verità la maggioranza degli uomini oggi l'ha detto la Madonna pensano che con la morte finisce tutto cioè questo si chiama nichilismo imperanti qual è il nichilismo? il nichilismo che è il modo di pensare riguardo all'uomo per cui tu c'è l'unico l'unico versetto della scrittura che cito i non credenti ricordi di uomo che sei polvere in polvere ritornerai eccolo lì non dicono che in questa polvere Dio ha soffiato il ruà lo spirito immortale no? allora la oggi la la maggioranza delle persone è assimilato cioè c'è l'ateismo di massa assimilato questa visione della vita cioè non prega più non pregando più ha perso la fede ha perso il senso del bene e del male non sapevo che cos'è il peccato non sapevo che cos'è il pentimento ha perso Dio non è più all'orizzonte si sono persi è come se tu andando in macchina perdi la strada maestra rimani in una boscaglia non sapevo che parte andare noi viviamo in questo mondo cari amici cioè specialmente poi i ragazzi dei venti anni in poi che perdono le nozioni di catechismo dalla fede le nozioni principali perché le nozioni principali sono molto semplici chi sei da dove vieni dove vai chi sei sei un figlio di Dio hai un'anima immortale da dove vieni vieni da Dio dove vai vado nella vita eterna questo è il tragitto della vita sono le cose elementari che bisogna che i bambini elaborano poi però se non c'è la fede se non c'è la preghiera questa visione della vita che viene dalla fede uno la perde dopodiché quando l'ha persa a cosa serve la vita non so io ditemi voi io non lo so a cosa serve cioè la gente lavora poi con quel poco che avanza la gode ma poi non so come dire è una tristezza cioè la vita senza la meta un cammino che non sai dove vai cioè camminare ma scusa uno cammina cammina voi state a camminare voi senza sapere dove andate non lo so io infatti la madonna ci ha detto voi siete in un labirinto girate 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 non sapete dove andate non avete una meta un obiettivo ma queste cose che ce lo dice il catechismo Dio ci ha creato per che cosa la madonna dice la madonna ci dice voi avete perso il senso della vostra esistenza noi viviamo in questo mondo cioè quelli che poi ci odiano odiano i cristiani che odiano da Gesù Cristo che odiano la chiesa che sono presi dal demone i poveri disgraziati non sanno perché stanno al mondo non sanno perché poi si attaccano degli obiettivi i diritti quelle cose lì i diritti degli animali i diritti dei polli i diritti non so si attaccano a questi a questi frammenti di effimero neanche fossero chissà che cosa non sa più quali sono le cose principali non sa più quali sono gli obiettivi non sa neanche più cosa vuol dire essere buoni capito per cui io stamattina leggo una lettera dicendo di una signora che ascolta Radomaria dico io ho detto signore se questi sono gli ascoltatori te li regalo a te gli ho detto ma scusa siccome avete maltrattato le iene io non ascolterò più Radomaria e non manderò mai più un'offerta io ho detto signore le manderei una scomunica ma sono sono di buon umore oggi non lo fa questi sono i nostri questa è la gente che abbiamo intorno hai capito questa è la gente che abbiamo intorno c'è da spararsi comunque sia viviamo in un mondo dove la gente non sa ne chi è dove viene dove va è nell'oscurità ma poi scusate io non è che voglia i funerali laici io quando c'è un funerali laico prego per quella persona che è morta non aspetto che faccia i funerali prego subito perché perché è un mio fratello perché è un figlio di Dio ma i funerali laici secondo voi che cosa sono tutti parlano per mostrarsi cioè esibizioni esibizioni davanti alle televisioni di se stessi davanti a un cadavere tutti i vivi si esibiscono quali sono i funerali laici lasciamo perdere scusate no questo lo dico perché se la vita finisce con un mucchio come dice Pasquale se la vita finisce con due bandirati di terra sulla cassa ha voglia tu cioè la vita non ha più senso noi viviamo in questo mondo fatto dove la gente non so come dire si attacca si attacca a cose all'effimero a cose che non hanno nessun valore indegni di un uomo che è stato creato per l'assoluto per l'eternità e per Dio noi in questo mondo cosa dobbiamo fare fino alle cari in questo mondo noi dobbiamo andare per la nostra strada andare per la nostra strada che è il cammino verso l'eternità che è la testimonianza della bontà la testimonianza della luce portando la croce e seguendo Gesù Cristo cosa dobbiamo fare e di fronte a quelli che scappano da tutte le parti come direi vieni vieni dietro a me vieni vieni con noi che ti portiamo verso una via di uscita è come quando c'è un incendio c'è qualcuno che ha trovato la via di uscita e va e diciamo passate di qua passate di qua questo è il nostro lavoro ma se noi siamo persi se noi non sappiamo la strada cosa facciamo corriamo anche noi come piccoli mate adesso a sinistra e la manca quindi di quell'importanza per noi che siamo saldi nella fede saldi nella fede in modo tale da non vacillare da non come dire portare noi stessi e magari i nostri figli sulla via sbagliata anche per esempio in questo contesto che di questo di questo per me è una cosa una ferita grave cioè a quello che è il patrimonio dell'umanità che è il matrimonio tra uomo e donna cioè noi alla fine dobbiamo sì a me avrebbe la voglia di dire ma godetevelo no non lo dico dico no noi noi testimoniamo qual è il progetto di Dio con le famiglie che si amano con le famiglie dove l'amore è fedele come le famiglie dove l'amore è fecondo le famiglie che sono reattate dai figli testimoniamo questo facciamo vedere agli altri qual è la strada giusta questo è il nostro compito oggi la Madonna è qui per aiutare noi a far sì che indichiamo agli altri la strada giusta perché lei ha detto sono tutti i miei figli e io vi voglio portare tutti con me in paradiso quindi vedete come è necessaria questa mobilitazione spirituale da parte di tutti noi è necessaria eseguire la Madonna in questo progetto che sta portando avanti meditare i suoi messaggi tutto questo per assicurare padre Livio è ecclesiale ecclesiale perché non c'è niente di più ecclesiale della Madonna è perché la chiesa stessa è illuminata da questa grande luce e comunque da quando c'è Međugorje neanche il vescovo locale mai ha proibito che fossero diffusi i messaggi mai c'è stato una volta un piccolo tentativo di 20 minuti questa è una cosa che so soltanto io ma la Madonna l'ha sventato che non lo pubblicavano perché non si sa mai no la Madonna l'ha sventato perché guardate che la Madonna non scherza quando c'è di mezzo il suo piano non scherza avete sentito Maria ieri sera guardate dunque io ho chiesto a Maria ma Gesù ma la Madonna mi pare che mi aveva fatto vedere Gesù lecce homo cioè incoronato di spine fragellato sporco di sangue legato insomma lei fa sì ce l'ha fatto vedere qualche volta la prima volta erano i primi giorni racconta come è stato lei l'ha raccontato se avete sentito ieri sera anche stamattina ha raccontato che che la polizia lei li aveva portati in un manicomio per spaventarli e noi li aveva portati non so in che posto comunque dove c'erano i morti li portarono a vedere i cadaveri e comunque sia era un piano ben congegnato cioè le televisioni e tutti i giornali del regime comunisca dicevano che era un gruppo di ragazzi drogati questa era la diciamo sì il trucco del regime sono ragazzi drogati ma perché i ragazzi siano drogati bisogna anche prendere una droga se no come fare a dimostrarlo allora allora preparate loro queste cose le hanno sapute dopo perché alcuni della polizia poi si sono convertiti e quando si sono convertiti hanno detto come stavano le cose allora la Madonna quando furono portati quando furono portati della polizia disse loro per tutta la giornata non mangiate e non bevete per tutta la giornata non mangiate e non bevete loro non mica lo sapevano perché l'ha saputo dopo perché volevano drogarli e così dimostrare che i ragazzi erano drogati la Madonna siccome la Madonna avete visto come ha sventato la cosa l'ha sventata dicendo dicendo appunto non mangiate e non bevete quello che vi danno cioè la Madonna quando sono di mezzo le sue cose il nostro amico è lì a guardare interviene fa indica mostra è una cosa straordinaria ma l'ha fatto tantissime volte in tutti questi anni fino ad oggi quindi ritorno a quello che volevo dirvi nessuno è mai riuscito e mai c'è neanche tentato di proibire la Madonna di dare i suoi messaggi l'unica volta che lei ha minacciato di non darli più sapete perché? è perché la gente non li metteva in pratica e li ascoltava solo per curiosità allora ha detto allora eravamo i primi tempi e un giovedì in cui doi il messaggio la Madonna non l'ha dato Maria l'ha chiesto perché la Maria chiede il messaggio di fatto una volta non si è dimenticata di chiedere non l'ha dato tocca a lei ricordare di chiedere il messaggio allora la Madonna non l'ha dato il giorno i giovedì dopo la Maria dice perché non mi hai dato il messaggio un'altra volta cioè padre Slavko ha detto chiedere la Madonna perché non ti ha dato il messaggio un'altra volta e la Madonna dice non ho dato il messaggio perché voi li ascoltate per curiosità e non li mettete in pratica padre Slavko ha saputo la cosa organizzò un corso di esercizi spirituali in tutta la parrocchia eravamo in quaresima del 1984 il giovedì santo era un giovedì quando dava i messaggi dei primi gli dava il giovedì non i 25 il giovedì santo la Madonna disse questo era il giorno in cui io avevo deciso di non dargli più messaggi ma siccome la parrocchia si è rinnovata io vi darò messaggi come mai è avvenuto in tutta la storia del mondo la volta del 1984 e nel 2016 gli sta ancora dando e gli darà ancora per parecchio per me secondo me pensate che cosa ciò voglio dire nessuno mai è riuscito a far tacere la Madonna la Chiesa ha mai provito di sentire i messaggi lo dico perché noi dobbiamo scommettere dobbiamo mettere a frutto questa immensa grazia dei seguitati dalla Madonna che è qui perché la Madonna non può lasciarci annegare in questo mare di incredulità e di male che sta montando nel mondo e dovremmo aiutarla per portare a termine questo grande progetto che ha perché perché vi ho detto Babilonia il mondo nuovo senza Dio crolla e ci sarà un tempo di primavera parole sue e ci sarà il mondo nuovo della pace ci sarà un tempo di pace e di prosperità questo è quello che abbiamo davanti a noi tocca costruirlo per i nostri figli con la nostra fedeltà adesso manca c'è ancora qualche minuto perché diamo uno sguardo al messaggio della regina della pace di ieri 25 febbraio che è anche molto intonato alla quaresima siamo ancora all'inizio della quaresima abbiamo un mese davanti prima di arrivare a Pasqua se la chiesa tutta arrivasse rinnovata a Pasqua il mondo avrebbe un beneficio enorme un beneficio enorme avrebbe allora cari figli in questo tempo di grazia che è la quaresima vivito tutti alla conversione cioè la conversione non finisce mai questo per noi vuol dire fare una revisione di vita fare dei propositi fare una bella confessione per Pasqua poi la Madonna ci dice a che punto siamo siete persi e non sapete qual è il vostro scopo ce lo dice anche a noi cioè non sapete più perché state al mondo state perdendo la fede poi dice prendete la croce e guardate Gesù e seguitelo cioè ritrovate il senso del cammino che è anche una via crucis che porta verso la risurrezione guardate a Cristo crocifisso dice dice prendete la croce e guardate come ha fatto Gesù ogni mattina che ci alziamo abbiamo la croce quotidiana la fatica da affrontare guardiamo con quale coraggio l'ha fatto Gesù e seguiamolo facciamolo anche noi guardate come lui si dona a voi fino alla morte in croce perché vi ama e così noi perché lo amiamo lo seguiamo portando la nostra croce quotidiana senza tradimenti senza tentenamenti e ci rialziamo ogni volta che cadiamo figlioli vi invito a ritornare alla preghiera del cuore perché nella preghiera possiate trovare la speranza e il senso della vostra esistenza cioè nella preghiera credetemi non è il dire le parole è il trovare Dio io nella preghiera ma anche con le semplici parole devo parlare con Gesù devo parlare con Gesù aprire il mio cuore a Gesù sentire quello che lui mi dice devo parlare con la Madonna parlare con la Santissima Trinità sono persone che ascoltano Dio ci ascolta impariamo dei salmi a parlare con Dio con franchezza apriamo il nostro cuore a Dio ma se noi scusate se noi ogni giorno non parliamo con Dio non ci apriamo a Dio che è è il nostro amore il nostro sole se non facciamo questo siamo come dire moriamo perché da Dio viene la vita viene la luce la sapienza la forza ci viene tutto nella preghiera ma questo dobbiamo farlo ogni giorno guardate che chi non prega perde la fede chi non prega perde Dio e perde la fede e diventa un fiore avvizzito che è secca che muore quanti ce ne sono in giro pieno pieno di fuori marci nella preghiera troviamo la speranza cioè la Madonna ci ha detto nel messaggio ultimo a Miriana siccome siamo in un mondo dove noi non crediamo nell'aldilà dice pensate a Gesù risorto e a me che sono assunte in cielo pensiamo alla presenza della Madonna come fa non esiste l'aldilà sarei qui da 35 anni pensate a questo quello è il fine della vita datevi da fare per raggiungerlo ogni giorno ma noi nella preghiera scusate come si fa chi non crede in Dio non crede in Dio chi la mai scusa uno che non crede in Dio è perché è perché l'ha mai incontrato non ci ha mai parlato l'ha mai sentito non ci crede ma se uno parla con Dio ma guardate che non è mica un'illusione se uno parla con Dio veramente dalla preghiera si è trasformato non è più quello di prima entra in una sapienza una luce una grazia una forza straordinaria chi incontra Dio nella preghiera non perde mai la fede è impossibile l'ha sperimentato ha sperimentato Dio come uno che ha sperimentato l'amore crede nell'amore uno che l'ha mai sperimentato non ci crede quindi questo è dunque il cambiamento della vita e soprattutto la preghiera quotidiana nella quale incontrare Dio questo lo possiamo fare anche proprio ogni mattina quando ci alziamo in strada quando andiamo a letto non si può incominciare la giornata senza Dio e finirla senza Dio è una cioè da quel momento se una giornata incomincia senza Dio e finisce senza Dio giochiamo all'occa al gioco dell'occa cioè vaghiamo nel labirinto non sappiamo chi siamo né dove andiamo né cosa facciamo neanche perché patiamo ecco poi la Madonna termina dicendo io sono con voi questa è una grazia immensa sono con voi guarda che un amore non so se ce lo meritiamo una cosa del genere da parte della Madonna eh poi ha ottenuto di star qui così tanto tempo e di starci finché non verrà il tempo di primavera io sono con voi prego per voi grazie per aver risposto alla mia chiamata questo lo ha detto tutti i messaggi della Madonna finiscono con grazie per aver risposto alla mia chiamata sapete perché? perché se non avessimo risposto alla sua chiamata il mondo era finito Satra l'avrebbe distrutto la Madonna non dice come ha fatto ma se vi convertite se non vi convertirete ci sarà una seconda guerra mondiale qui cosa doveva dire se non vi convertirete il mondo finirà no no già è venuta per vincere già da per scontato che noi rispondiamo però adesso dovevo rispondere non si scappa da lì cioè che grazie per aver risposto alla mia chiamata è la parola della vittoria cioè vincerò io non il diavolo io sono sto ai primi tempi che ero qui alla Radio Maria adesso finisco no facciamo una barzelletta ero sotto tiro specialmente da parte dei preti o di qualche vescovo perché parlavo del diavolo no neanche l'avessi inventato io il diavolo ma dico ma l'avete letto il Vangelo non lo so io poi l'ho sentita l'ultima cosa ho sentito non dico da chi l'ha detto perché ho pietà di lui ha detto ma cosa continua parlando di diavolo Gesù l'ha vinto basta non parliamo ne più io con l'ho lì dico scusi eccellenza mi lega gli atti ha posto la memoria già Gesù Cristo aveva vinto gli atti dei pochi sono figli di diavoli e così pure l'apocalisse scusate ma dico non era un'eccellenza era un monsignore dunque io diciamo così stasera ho stasera guardando un sito internet sapete cosa leggo conferenza conferenza congiunta di Monsignore Bruno Forte sapete che è Monsignore Bruno Forte è uno dei massimi teologici esistenti conferenza congiunta di Monsignore Bruno Forte ed Alema argomento il diavolo argomento il diavolo capito cioè sono riuscito a far parlare del diavolo anche da Alema pensate come come è cambiata la mentalità voglio dire siamo sotto attacco abbiamo qui la Madonna per questa grande presenza che che illumina la nostra vita ecco allora concludiamo diciamo così in bellezza leggendo il messaggio cari figli in questo tempo di grazia vi invito tutti alla conversione figlioli amate poco pregate ancora meno siete persi e non sapete qual è il vostro scopo prendete la croce guardate Gesù e seguitelo lui si dona a voi fino alla morte in croce perché vi ama figlioli vi invito a ritornare alla preghiera del cuore perché nella preghiera possiate trovare la speranza e il senso della vostra esistenza io sono con voi e prego per voi grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie per aver guardato grazie per aver guardato grazie per aver guardato